A chi un ringraziamento per questo premio? Ho già detto prima di sicuro alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori dello sport io sono adesso testimone e cerco di portarlo avanti per il mio piccolo compito. Per chi sta in un ambito di sport considerati minori, quali sono le difficoltà? Le difficoltà sono a volte quelle di destare l'interesse da parte del pubblico di cercare di coinvolgere più gente possibile e questo deve da parte nostra avere il massimo impegno affinché più gente possa conoscere quello che facciamo.